Un attentatore suicida si è fatto saltare in aria con una cintura esplosiva a Damasco. Ci sarebbero almeno quattro morti e una ventina di feriti. L'esplosione è avvenuta nel quartiere di Gisr al-Abiad. L'attentato non è stato ancora rivendicato. Sempre nella capitale siriana la settimana scorsa, almeno 15 persone erano rimaste uccise in un altro attacco kamikaze a una stazione di bus.